intelligenza artificiale da un lato facebook ads dall'altro che cosa hanno in comune queste due cose e attenzione non sto parlando di chat gpt o qualsiasi altra cosa sto proprio parlando di qualcosa che risiede all'interno dell'algoritmo delle facebook ads di meta potremmo dire e che devi assolutamente sapere in questo 2023 ebbene intelligenza artificiale all'interno delle facebook ads che cosa si intende vedi l'intelligenza artificiale ha preso sempre più piede ne prenderà sempre di più e questo è un dato di fatto è ben finito il momento di scalpore iniziale in cui non si parlava altro che di chat gpt o intelligenza artificiale come qualcosa di rivoluzionario certo se ne parla ancora ma non siamo ancora in quel momento di fomo o panico disperso su telegiornali riviste eccetera oggi ne abbiamo presa preso un po più consapevolezza e direi anche per fortuna ma sicuramente le piattaforme pubblicitari hanno preso consapevolezza molto prima di tutti noi e si sono accorti fin da subito di quello che era il potere dell'intelligenza artificiale e di come questa potesse rappresentare una vera e propria risorsa se integrata nel modo giusto all'interno del proprio algoritmo